La FUSION! Che... che... posizione imbarazzante! Questa è la FUSION! Non abbiamo tempo da perdere, esercitiamoci, forza! Che ti prende, Vegetta? Preferirei di gran lunga la morte! FUSION! Così sì che sono fortissimo! Avete sbagliato! Gli indici non si sono uniti! Fra trenta minuti ci riproveremo! FUSION! Non ci siamo affatto ancora! Avete preso angolazioni differenti! Ci riproveremo tra trenta minuti! FUSION! FUSION! Adesso è perfetto! Ora vai a sconfiggerlo, presto! Senti, ma... come... come dovrei chiamarti? Eh? Quando è successo con Ipotara, ero Vegetta, no? Già, allora... Lascia perdere, sbrigati ad andare! Non posso! In effetti avere un nome mi renderà più affascinante! Questa volta... Allora... Sarò Gogeta!